La montagna ha questa straordinaria capacità di affascinare, ha affascinato scrittori, viaggiatori per i suoi colori, per le sue forme, per i suoi profumi, per i paesaggi. Io vivo e lavoro e ho questa fortuna di studiare la montagna e un ambiente, quando ci si pensa, nel definirlo non è così semplice. Che cos'è la montagna? La montagna in realtà è una combinazione tra quota ma anche la pendenza, la pendenza che crea una grossa energia del rilievo e questa energia del rilievo si può tradurre in movimento. E quindi dalla combinazione di quota e pendenza nasce un ambiente unico, un ambiente che copre il 22% delle terre emerse, il 15% della popolazione mondiale vive in montagna. Quindi un ambiente straordinario, unico. Ovviamente questa energia del rilievo ha obbligato l'uomo che voleva vivere in montagna a contrastarle in qualche modo. E quindi l'elogio delle superfici piatte. Lavorare per avere superfici piatte, con i terrazzamenti, avere dei luoghi in cui questa energia del rilievo in qualche modo potesse essere mitigata, renderla adatta alla vita dell'uomo. Nonostante questo, obiettivamente è un ambiente difficile. Spesso si è lontani dai servizi essenziali. Questa è un'immagine in Nepal. Questi scolari eleganti, magari due ore di cammino per raggiungere la scuola, non parliamo degli ospedali. Quindi tante volte un ambiente in qualche modo ostile. Un ambiente però ricco di risorse, aria pura, legno e soprattutto acqua. Il 70% dell'acqua dolce del nostro pianeta si trova in montagna. È una quantità straordinaria e crea una connessione con le aree di pianura, che spesso beneficiano di questo capitale che la montagna rende disponibile, anche a chilometri di distanza. Quest'acqua può trovarsi, come si vede in questa immagine, anche allo stato solito. Ghiaccio, neve. Viviamo in un pianeta straordinario, in cui possiamo avere l'acqua allo stato liquido, solido e vapore. Non è? È una cosa rara, eh? Negli altri pianeti questo non può avvenire. E ghiaccio, neve, così come il ghiaccio marino, sono tutti elementi della criosfera. La criosfera è questa parte del nostro pianeta in cui l'acqua è presente allo stato solido. È magnifico, le molecole si ordinano e si crea il ghiaccio. E questa superficie, ricoperta dall'acqua allo stato solido, è proprio la criosfera. E noi la vediamo, la possiamo apprezzare dai satelliti, ma a volte la criosfera è nascosta. È un po' timida, come il permafrost. Il permafrost è un substrato gelato in cui l'acqua è congelata, ma che sta sotto i nostri piedi. Io lo studio in Siberia, ad elevata latitudine, in Alaska, ma posso studiarla anche in montagna, ad alta quota, nelle esposizioni nord, in cui io camminando posso muovermi sul ghiaccio senza accorgermene. A volte il permafrost si palesa, magicamente, e mette in movimento le pietre. Può sembrare incredibile, le pietre le assumiamo come qualcosa di stabile, che non si muova, no? Il gelo e il disgelo, in certe condizioni, trasporta le pietre a formare dei cerchi, come questo. Se ne possono contare tanti, ci sono dei luoghi sulle Alpi, ad esempio, in cui si trovano questi cerchi. Ed è di nuovo la natura che si mette in movimento, a causa del ghiaccio. Poi la neve. La neve è un altro straordinario elemento della criosfera. La neve protegge il suolo durante l'inverno, è un elemento magico da un certo punto di vista. La neve può muoversi, le valanghe. Una valanga polverosa può raggiungere velocità di 300 km all'ora. Pressioni di tonnellate a metro quadrato. Tutta l'energia del rilievo è la neve che si mette in movimento e può creare di nuovo delle situazioni particolari. Io ho la fortuna di poter studiare la montagna e di studiare la neve. Sono un nivologo. E in particolare per me studiare la neve significa cogliere nel fascino, cercare di cogliere nei cambiamenti. E per farlo non ho bisogno di grandi attrezzature. Una lastrina, una lente di pochi ingrandimenti, la fortuna di poter vivere in un ambiente innevato e cercare di riconoscere i cristalli. I cristalli sono lettere dal cielo. Si formano nelle nubi in un ambiente completamente diverso, scendono al suolo, sono in una situazione che non è come quella della nube e devono trasformarsi, iniziano a cambiare. E noi con la lente cerchiamo di riconoscerli. Cambiano di giorno in giorno, direi quasi in ora in ora. E attraverso il riconoscimento noi percepiamo queste trasformazioni che sono detti i metamorfismi. E sono qualcosa di estremamente interessante e affascinante. Quando uno pensa alla neve poi dice un qualcosa di freddo, sì è fredda, ma è invece molto, molto ospitale. Ci sono organismi estremofili come queste alghe, adattate a vivere al freddo, adattate a vivere nella neve. E anche loro si palesano. In primavera, in cui si riconosce questo colore rosso, un rosso sangue, quasi un po' macabro, è quest'alga che si protegge con un pigmento rosso dalla radiazione solare, come fosse una crema solare. E compie il suo ciclo di vita proprio all'interno del manto nevoso. È un rosso molto più vivo, di questo marroncino tenue. Questo invece è quando sulle Alpi, sull'Appennino, arrivano le deposizioni sariane. Piccole particelle di linea argilla che percorrono migliaia di chilometri e vanno a depositarsi dentro la neve, trasportando con sé minerali, microfossili, che arrivano, in questo caso, dalle regioni sariane. Quindi la neve che diventa un habitat. Qual è il problema? La montagna, la neve, il ghiaccio, sono elementi fragili. Poche variazioni di temperatura, anche modeste, ne possono pregiudicare l'esistenza. Le montagne si stanno scaldando. Si stanno scaldando di più che la media del nostro pianeta. E questo le rende ancora più vulnerabili. Questo riscaldamento, che noi conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere, sta avvenendo con ritmi che mai si sono verificati. Un'accelerazione. E quindi, in qualche modo, la natura, la montagna, si mette in movimento. Le specie vegetali salgono di quota. I ghiacciai reagiscono. Come? Guardate questa immagine. Questa è un ghiacciaio con una linea immaginaria, la linea di equilibrio, che separa la zona più alta, in cui la neve si trasforma in ghiaccio, alimentandolo. La parte più bassa, in cui invece la neve e il ghiaccio fondono. Cosa sta succedendo? Questa linea si sta alzando. Quindi è sempre minore la superficie in cui il ghiaccio si può formare, rispetto alla superficie in cui il ghiaccio può fondere. Come reagiscono i ghiacciai? Non sono più in equilibrio. Reagiscono arretrando. Questo è un ghiacciaio dell'Issa, a cui sono molto affezionato, nel Monte Rosa. A sinistra è un'immagine del 1920, raccolta, scattata da Umberto Montini. Ricordatevi questo nome, ne parlerò anche dopo. E adesso, dopo cento anni, una foto dallo stesso punto di presa, di Arnold Velf, una guida alpina che mi ha donato molte di queste fotografie. E i confronti fotografici parlano da sé. I ghiacciai funzionano per comunicare il riscaldamento globale. In cent'anni, più di un chilometro di sviluppo del ghiacciaio, spessori anche di 40-50 metri, milioni di metri cubi di ghiaccio che si sono persi. Acqua, preziosa. E quindi, dal punto di vista dell'impatto, queste immagini voglio dire molto. Certo, bisogna avere immagini storiche. L'importanza, quindi, di avere testimonianze anche di un tempo che adesso non c'è più. Tutti i termini, la forza delle parole, anticipo, accelerazione, arretramento, fusione, innalzamento, aumento, sono tutte parole che noi cerchiamo di indagare. Le parole hanno un significato. Per noi, significa capire le cause, i meccanismi, gli effetti di questi mutamenti. E lo facciamo con una logica che è quella della condivisione nello spazio, le reti di ricerca. Questa è la rete del Terra di cui faccio parte per la ricerca ecologica a lungo termine. Tutti questi puntini sono dei punti in cui ci sono dei siti di ricerca in cui cerchiamo di condurre una ricerca ecologica a lungo termine. Monitoriamo i parametri di anno in anno, di mese in mese, per avere delle serie continue di dati. E questo, del fatto di avere serie continue, ci obbliga ad andare indietro anche nel tempo. Quindi una condivisione dell'informazione nello spazio, ma anche nel tempo. E scoprire vite straordinarie di scienziati che hanno iniziato a fare misura in tempi in cui non era così consueto. Umberto Mondini, io sono affezionato a questo scienziato dei primi del Novecento, una persona straordinaria, a cui ho dedicato tantissimo del mio tempo, mi ha ispirato molto. Lui era un glaciologo, misurava lo stato dei ghiacciai, vi dicevo, primi del Novecento. Una spedizione addirittura nel Sahara africano, nel Sahara libico, nel 1934, era tale la sua curiosità, e dal deserto di ghiaccio si muove al deserto di sabbia. Un climatologo dirige una rete di osservatori sulle Alpi, in cui a partire dal 1925 al 1940 inizia a misurare la neve, il vento, le precipitazioni, e lo fa raccogliendo 400.000 dati in 15 anni. Dati che adesso sono preziosi, perché noi possiamo confrontare i nostri dati con i dati che ha raccolto lui più di 80-100 anni fa. Era talmente la sua ansia di conoscenza, la sua curiosità, che riteneva inconcepibile che si potesse andare in montagna per puro piacere. Come? Tu vai in montagna e cosa dice in questo manualetto di istruzioni scientifiche per alpinisti del CAI? Alpinista che va in montagna. Se avrai occasione di osservare della pioggia del di sopra dei 3.500 metri durante la stagione estiva, abbia cura di prenderne note e di darmi le comunicazioni. Era un evento raro vedere piovere sopra i 3.500 metri. Adesso probabilmente dovremmo dire alpinista se vedi piovere sopra i 4.000 metri. Ma non è tanto questo che mi premeva raccontare, ma il fatto di coinvolgere il non esperto nella ricerca scientifica. Lui è stato un precursore anche in questo, in quella che viene conosciuta come la citizen science. Il fatto, in qualche modo, in cui si coinvolga il non esperto in una ricerca scientifica. Una ricerca quindi partecipata. Qui vi ho messo questa esperienza, questi cammini eltero. Ci siamo mossi dal Monte Rosa al Lago Maggiore, una serie di scienziati, di esperti, con gruppi di persone che si univano a noi durante il cammino. La meraviglia di camminare e poter condividere i paesaggi e condividere... Abbiamo raccolto i dati, li abbiamo elaborati, li abbiamo trasmesse, abbiamo discusso. Ed era stato uno straordinario modo, quello della citizen science, per avvicinare tutti alla scienza, capirne i limiti, capirne il fascino, la meraviglia, capire cos'è una comunità scientifica, una comunità in cui, come vi dicevo, le idee circolano, si muovono nello spazio, nel tempo, fatte di vite, di ricercatori, ricercatrici, che spendono la loro vita, che sono animate tutte da una parola che io adoro, la curiosità. La curiosità. Avere un obiettivo comune e cercare di coglierlo insieme. E quindi l'idea, insomma, di questa condivisione, soprattutto di questi tempi, una condivisione che non ha confini, né di stati, né di discipline, la trovo un'idea, la trovo un'idea meravigliosa. E quindi, a questo momento, non posso che dirvi grazie per avermi dato questa opportunità e chiudo con un'immagine alla quale sono affezionato. Uno dei miei parchi giochi preferiti, questo è l'Istituto Scientifico Angelo Mosso dell'Università di Torino, a 3.000 metri, tra Piemonte e Valle d'Ossa, dove ho la fortuna di poter giocare e soddisfare alcune delle mie curiosità. Grazie ancora. Grazie. Applausi. 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 Applausi.